Quest'anno cosa fate per Giordano Bruno? Allora ci sarà una sorpresa organizzata dal comune di Nola in associazione con il Papavero su finalmente a Castelcicala e quindi vi aspettiamo tutti, vi aggiorneremo con dei post su Facebook dove vi potremmo aggiornare di tutto quello che succederà su Castelcicala per l'anniversario della morte di Giordano Bruno, del rogo di Giordano Bruno. Quindi quest'anno ci sarà qualcosa? Ci sarà sicuramente qualcosa perché ormai sono passati troppi anni che è passato tutto così nel silenzio e insieme con il comune di Nola, con il nostro sindaco e con il nostro assessore sicuramente noi faremo delle cose molto belle. Il Papavero sta ottenendo dei buoni risultati. Noi sono cose che noi facciamo con il cuore e di conseguenza ci teniamo per quella collina, ci fa piacere che le persone di Nola ci seguano e dobbiamo ridare vita a questa collina. e quindi coloro i quali sono malfattori che non amano la collina? Non sono malfattori, sono purtroppo delle persone che per troppo tempo non sono rimaste ineducate, diciamo così. E quindi noi stiamo facendo in modo che... Ricordo bene che il vostro cane da cane è riuscito o no? Diciamo che lui insieme con noi, con me, dell'associazione, con me in modo particolare perché lui si interfaccia molto con me, noi abbiamo incominciato a ripulire la collina di Castelcicala e adesso dobbiamo far rivivere il borgo di Castelcicala. Ok.